A distanza da un anno, Dragoni scende nuovamente in piazza con una fiaccolata per ricordare la morte di Maria Tino, uccisa dal suo fidanzato ora in carcere, esattamente il 13 luglio del 2017, uno dei femminicidi fra i più efferati avvenuti nell'alto casertano. In piazza c'erano in tanti, oltre alla famiglia della vittima, anche diversi rappresentanti dei comuni vicini, con in testa il comune di Dragoni e tantissima gente comune. Subito dopo la messa il corteo ha raggiunto, dalla chiesa dell'Annunziata, la piazzetta dell'orrore nel cuore del centro storico di Dragoni, dove la panchina sulla quale fu uccisa Maria rimane ancora il simbolo di una morte assurda e dove ancora oggi in tanti lasciano un fiore. Anche ieri la piccola piazzetta era gremita di tanti cittadini arrivati anche dai paesi vicini, presente anche il Comitato Provinciale Sport Nazionale, che con una esibizione ha voluto dimostrare di come la donna può difendersi in situazioni drammatiche. Ma cosa si sta facendo in termini di giustizia oggi per tutelare le donne e il componente della Commissione Giustizia alla Camera, l'onorevole Gianfranco Sarno, del Movimento 5 Stelle, a spiegarci? In effetti, proprio qualche giorno fa, in occasione della riforma dell'ordinamento penitenziario, che c'era stato trasferito dal governo precedente, spulciando le migliaia di carte, ci siamo accorti che tra le misure di alleggerimento e quindi l'estensione delle pene detentive alternative, quindi le pene premiali verso una determinata tipologia di reati, ci siamo accorti che venivano beneficiate di questo tipo di misure anche reati gravi e particolarmente odiosi, vale a dire la prostituzione minorile, la violenza sessuale e il sequestro di persone. Per noi è stato già solo questo sufficiente per bloccare la riforma e rimandare tutto ad una rivisitazione seria della riforma dell'ordinamento penitenziario, dove è vero che abbiamo una problematica delle carceri, però è anche vero che il cittadino assolutamente non deve percepire un senso di insicurezza, ma deve percepire che su certi reati lo Stato c'è ed è vicino e a tutela della persona offesa. Presente visibilmente commossa anche la criminologa Antonella Formicola che segue la vicenda di Maria Tino, la quale ci ha poi spiegato l'importanza del ruolo della criminologa in un processo per femminicidio come quello appunto di Maria Tino. La figura del criminologo è fondamentale in questo tipo di reati perché la criminologia è una scienza multidisciplinare che studia il reato e il reo, quindi di conseguenza bisogna assolutamente usufruire di questa figura professionale all'interno dei processi penali in quanto molto spesso insomma sia la figura del criminologo o del consulente in generale che sia anche uno psicologo o poi dipende dal caso concreto serve sicuramente per dare maggiore chiarezza al magistrato rispetto alla dinamica dei fatti. La mia figura è attenente è una criminologia investigativa per cui è una figura che sicuramente insomma studia le dinamiche, si coordina con le forze dell'ordine, con gli inquirenti che ovviamente poi nell'immediatezza del fatto hanno svolto le indagini per dare appunto ai pubblici ministeri e ai magistrati che poi dovranno decidere per una pena sicuramente insomma un quadro probatorio molto più chiaro e una dinamica molto più chiara dei fatti. Da Dragoni è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti.